Adesso la pagina degli spettacoli, parata di stelle domani dalle 20.30 al teatro d'annunzio per la serata conclusiva della cinquantesima edizione dei premi internazionali Flaiano. Tra i premiati è atteso Fiorello per il miglior programma televisivo Viva Rai 2, premio migliore interpretazione maschile ad Alessandro Preziosi nella serie La vita bugiarda degli adulti, premio internazionale alla carriera al premio Oscar Taylor-Eckford accompagnato dalla madrina della cinquantesima edizione dei premi Helen Mirren, per la serie Le indagini di Lolita Lobosco, premio speciale per l'interpretazione a Luisa Ranieri, per il giornalismo premio alla carriera a Cesara Bonamici, vice direttore del TG5, l'inviata speciale scrittrice, autrice e conduttrice Lili Gruber, per il cinema premio miglior regia a Marco Bellocchio per Esterno Notte, migliore interpretazione femminile per Sara Serraiocco per il film Il primo giorno della mia vita, premio per il musical Casanova Opera Pop a Red Gansian, una cerimonia che verrà trasmessa integralmente come ogni anno da Rete 8 con collegamento a partire dalle 19.30. In caso di maltempo la premiazione si svolgerà al cinema Teatro Circus. E intanto oggi alle 22 su Rete 8 in programma, grande richiesta alla replica del docufilm La Promessa, Premi Flaiano da Edoardo Accarla, dedicato alla cinquantesima edizione dei premi, al centenario della nascita del suo fondatore Edoardo Tiboni, un documentario firmato da Antonio Dottavio.